Romentinese, Cerano e Alicese si dividono la posta in palio nella prima giornata di campionato. Il match termina a reti inviolate. La cronaca per l'Alicese. Alla battuta c'è Amato, ma il suo tiro è centrale e non impenserisce Rai Nero. Risponde la roccia al sedicesimo con Colombo, che riceve in area. Stoppa con il petto e prova a girare in porta, ma Cerruti si oppone. Poi Papa potrebbe ribadire in rete, ma incespica sul pallone. Al diciannovesimo, Bugno, pericoloso in area. Cerca un compagno al centro. Il pallone passa e sul secondo palo c'è Colombo, che calcia con il destro, ma ha uno splendido riflesso di Cerruti, che devia la palla in angolo. Al venticinquesimo, Guizzo di Meo De Filippi, che salta il suo marcatore e si ritrova tu per tu con il portiere, ma gli calcia addosso. Bravo qui nell'uscita Rai Nero, che difende lo specchio. Al ventottesimo, errore di bene in casa nel disimpegno. Serve involontariamente Torin, che può puntare la porta, destro incrociare, che si stampa sul palo. Al trentunesimo, Roce ancora sfortunata, quando Colombo riceve il pallone in area e da due passi calcia a botta sicura, ma la traversa dice di no. Al quarantaquattresimo, in chiusura di primo tempo, punizione dalla sinistra per gli ospiti, pallone servito a Brugnera, che cerca il palo lontano, di poco alato. Nella ripresa, partita bloccata, entrambe le squadre cercano il gol vittoria, che però non arriva. Al decimo, corner dalla sinistra per la Roce. Il pallone è servito nella mischia e viene spizzato di testa, ma nulla di fatto. Al ventisettesimo, punizione dalla lunga distanza di Bugno. Il suo tiro è potente ma centrale e blocca senza problemi Cerruti. Nel finale di tempo, al quarantaduesimo, si divora un'occasione ghiottissima a Moscardi, che viene poscato in area tutto solo, ma al momento di calciare scivola, sfortunato il calciatore della Roce. Termina quindi 0 a 0.